mamma mia ma che cos'è e chi se l'aspettava abbiamo due joystick in mano ci abbiamo due cose in mano no io c'ho sì joystick roma juventus sono tornati i pronostici gay play in occasione dell'international champions cup perché molti non lo sanno ma ragazzi c'è roma juve veramente domenica sera alle 22 quindi andate a guarda no andate a guardarla no perché ancora la guarderete non ce ne può fregare di meno promastico cesso 2017 darei il via alla sigla ci vediamo tra poco perché parte la sfida e io prendo la mia amata io no ciao ragazzi ciao berri trovati berri trovati sbattemi le mani sui cosci e figura del controller che me fa l'acqua l'acqua caliccia ciao vi ritrovati berri trovati hai fatto una schifezza te devi riabituare perché comunque non è una cosa abbiamo perso un po' si abbiamo perso il ritmo siamo tornati su pes chess 2017 per chi c'è sempre dai vecchi pronostici gay play se sta scaricando la batteria del buon fabio ma non ce ne può fregare di meno formazione roma c'è angi zander abbiamo modificato kolarov ho messo tutti i nuovi acquisti anche alla juventus cominciamo la partita tu juve io roma vediamo chi vince ma soprattutto ragazzi lasciate un like a questo video mi raccomando perché tornerà la serie dei pronostici gay play e li faremo su tutti i big match di serie a champions league roma league e quant'altro ti senti pronto no sinceramente no perché un po' che non c'è gioco e sei arrugginito sono un po' arrugginito io sono arrugginita perché ho giocato al pass 2018 che è molto molto più lento di quei sei arrugginita sono arrugginita cara guarda il passaggio filtrante è fuori gioco è fallo gioco stavanti è fallo gioco tu il fallo ce l'hai sempre qua tu sapessi che tu ce l'hai il fallo dai che è sbueno dai che è sbueno fatti vede il quadrato fatti vede il quadrato in dero quanto cavolo corre questo sto cristiano non te la faccio io tanto c'ho racia appunto dei riferimenti di riferimenti eccolo dai 3 kg rigioco ma che forte che è da costa raga è tipo ce l'hai 86 86 sì sì c'è qualcosa che guarda te stranisci vuolo cross guarda ha parato ma che cos'ho capito niente cosa hai parato una cosa da zuzzeria guarda che ha fatto mi senti solo braccio in mezzo al palo lì sono meglio così riprovo ancora il cross è in mezzo al cuore fissatemi sia ecco lo vedi così almeno ho trovato lo spazio vuolo il cross oddio che ha fatto ma io non ci guardano fregna tua non ci voglio credere guardare al gol del secolo ma parte al secolo guarda mi hai messo paura con l'urletto che hai fatto che fa è tutta una palla filtrante buona per alex alex del piero come alex del piero vabbè ho letto alex lo sa fatto trascinata dalla giuenta dal s del piero fai l'estrata giusta vantaggio che almeno non mi ammolisce cross ha fatto guarda guarda che tu non portano di schifo guarda che hai fatto guarda che ha colto spazio che è qualunque spazio mamma mia al primo di oh e che cazzo che partita ragazzi guarda che mi sto attrezzata ho visto cose interessanti che è successo chi è questo che sta a battere sto cazzo dai ce l'hai pure buono veramente è il sinistro che batte l'angolo là mi piace brutto ma guarda ma come cazzo si fa guarda 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 che buonissima te lo faccio te lo metto te lo mette lo messo ed in cielo 1 a 0 Sono stato io L'ho fatto io Sono stato un grande Cioè guarda Primo gol stagionale Amichevole Mi puoi fregare bene È gol È entrata La buttata La faccio rivedere Guarda che Tu Stay Stop there Ma io non ho capito Guarda buffondo Guarda buffondo A che sta a pensare buffondo Eh lo dico io Anche sape io lo so Mirella di cosa hai bisogno Guarda ti avevo bisogno di cazzo Guarda 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 come hai fatto palla Ah mi ha dato Ho capito Buonissima la palla Buonissima la palla E dai No Ma che parla Beh senti Ma mi sto cominciando a stancare Oddio mi ha la zanzara Mi sta pizzicando la zanzara Non vale Guarda come si è stato Il tiro a giro E giro No Ancora Ancora Angolo Mamma mia ragazzi Angolo Angolo Che partì Ma si stanno a mangiare zanzara Che cazzo Che c'è da qua dentro Mamma mia E l'avis Ci stanno anche a far più caso Le manna l'avis Le manna A pizzicare Ma vanno a scaricare il sangue Sì Guarda Detacco Detacco No Guarda che c'è da qua che cazzo Guarda che te sto fanno Questa è un'azione terrifica Mamma mia Comunque la differenza tra Oh e sta fermo E' Cretino Guarda come protegge Guarda come protegge Guarda come protegge Guarda Guarda C'è da inserzo Nonna Ma Beh che? Dovendo qualcosa E no E che cazzo Mamma sto buffono Manno veloce Manno veloce Non ti metto sconaglion Scoglion Guarda guarda là qua E tiro in giro Oh e sta a paradutte Beh ho capito La bella Mi ha tirato una Ciavatta da qua Madonna Madonna Ma se sta Non mani a vincere Ce la faccio più I mortacci loro Io vinto Ho vinto Ha vinto Sì Prima partita della stagione Il cabone Subito Te l'ha pizzato così Tiè Tiè So contento E me ne vanto Però c'ho un piede Praticamente magnato E mozzicato Dalle zanzare Voglio vedere i tiri 8 tiri a 2 13 tiri a 9 Nel secondo tempo Sono morto Tu mai detto Oh no Perché non so Fai niente Non so Nel primo tempo Ne hai fatto Al mente Te la tieni Quanti like Prossimo video Facciamo un altro Pronostico gameplay Tanto ormai Le partite Si sprecheranno Ragazzi La stagione Alle porche E alle porte Alle porte Però Vogliamo partire Bassi O vogliamo Subito Sparare I botti I botti Perché questa È una serie De punta 3000 Like Perché Gli chiedevamo L'anno scorso E ne arrivavano 4000 Quindi ragazzi Mi ha 3000 Fateci vedere Tutto il vostro Supporto e nient'altro Quella cosa Non la vogliamo vedere Saluta Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Quindi vi ricordiamo Noi stai a coprire La visuale Mentre parlo Non ci stanno Andando a mangiare Ricordi Diciamo 3000 like Prossimo video Pronostico Gay Play Comincerai a rosicare Sicuro La stagione Cominciata La rosicata Partirà Alla prossima Mentre questo Sgrotta Sputuratamente Vomita Andiretta Così facciamo Vomito Finito male Del fratello Del Gappone Questa va risali Veramente male Ma malissimo Appunto Bella Ciao